Prince Harry, Spare, il minore, capitolo 23. Marco, come me, amava i dolci e in particolare i pudding, sempre come me. Li chiamava Poods e quindi mi venne l'idea di correggere il suo pudding con il tabasco. Di sicuro all'inizio avrebbe lanciato un urlo, poi rendendosi conto dello scherzo avrebbe riso. Oh, come avrebbe riso! E infine intuendo che ero stato io, avrebbe riso ancora di più. Non vedevo l'ora. La sera successiva, mentre tutti mangiavano, io andai zitto zitto alla tenda della cucina e una volta arrivato, versai un'intera tazza da tè di tabasco nella ciotola del pudding di Marco, al pane burro il preferito di mamma. Il personale mi vide, ma io portai un dito alle labbra e loro sogghignarono. Tornando alla tenda dove si mangiava, feci l'occhiolino a Tiggy. Gli avevo già confessato le mie intenzioni e lei aveva trovato brillante il mio scherzo. Non ricordo se ne avessi parlato anche con Willy, probabilmente no, perché sapevo che non avrebbe approvato. Io ero sulle spine e contavo i minuti che mancavano al dessert cercando di trattenere le risatine. All'improvviso qualcuno urlò, wow! E un altro grido, ma che? Ci voltammo all'unisono. Subito fuori dalla tenda c'era una coda fulva che sferzava l'aria. Un leopardo! Tutti rimasero immobili tranne me, che fece un passo avanti. Marco mi afferrò per una spalla e il leopardo se ne andò, come una prima ballerina, verso il sentiero dal quale era arrivato. Mi girai in tempo per vedere gli adulti che si guardavano a bocca aperta. Accidenti! Tutti si voltarono verso di me. Accidenti! E tutti pensavano la stessa cosa, immaginavano lo stesso titolone sulla stampa. Il principe Harry sbranato da un leopardo. Il mondo sarebbe rimasto scioccato e diverse teste sarebbero rotolate. Io non pensavo a nulla di questo, ma mamma, quel leopardo era chiaro. Era un segno che mi aveva mandato lei, un messaggero, e mi doveva dire, va tutto bene e andrà tutto bene. E nel contempo pensai inorridito. E se mamma fosse uscita finalmente dal suo nascondiglio solo per scoprire che il figlio più giovane è stato mangiato vivo?